Il Ministro per lo Sport Andrea Bodi oggi all'Aquila per la presentazione di un percorso di informazione e formazione sui programmi europei dedicato ai ragazzi delle aree colpite dal sisma. Organizzato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù e il Commissario Stradinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 in collaborazione con la rete Eurodesk e le Informa Giovani della città dell'Aquila mira a far conoscere i programmi europei Erasmus+, più gioventù e sport e Corpo Europeo di Solidarietà. Il senso di questa mattinata è il senso di tutti i giorni che noi vogliamo siano profiqui proprio in previsione del futuro associare ai giovani il futuro mi sembra anche naturale io cerco di anticipare, cerco sempre di dire che i giovani sono il presente più che il futuro qua questa città per l'Italia è il simbolo della progettazione del futuro della ricostruzione di ciò che purtroppo è venuto meno e non soltanto perché questa piazza è la testimonianza anche della volontà di migliorare a prescindere da ciò che è stato quello che è successo nel passato adesso vediamo un po' i ragazzi cosa domanderanno perché queste sono occasioni non soltanto per parlare ma soprattutto per ascoltare per confrontarci e per rispondere. La giornata è stata organizzata a Palazzo Margherita con un workshop rivolto a 40 giovani del territorio a partire dai 17 anni dal titolo Costruiamo il futuro, progettiamo il presente a 15 anni dal sisma in continuità con le attività di ricostruzione della città il workshop vuole ridare vita ai luoghi di aggregazione della partecipazione giovanile con un'opera di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi incoraggiando la loro partecipazione attiva presenti gli alunni degli istituti da Osta e Colecchi chiamate ad effettuare un intervento relativo a un progetto promosso da Informa Giovani in vista delle elezioni europee. Nel frattempo che si costruiscono le case qui all'Aquila siamo molto avanti fortunatamente è necessario però che la comunità sia e rimanga coesa e se possibile possa essere favorita nell'agganciare le sfide della modernità siamo qui con il Ministro Abodi e con l'Agenzia Nazionale Giovane proprio per dare degli obiettivi sfidanti ai giovani che animano l'appennino contemporaneo.